VEICOLI COMMERCIALI VOLSWAGEN Dedicate alcuni minuti a Crafter, i veicoli più versatili della gamma a veicoli commerciali Volkswagen. In questo video veste la configurazione più classica del mondo edilizia, ovvero il cassone ribaltabile trilaterale. Un telaio robusto con pneumatici gemellati e un potente motore turbodiesel da 177 CV trasporteranno tutto ciò che il vostro lavoro vi chiederà. Il cassone, interamente in alluminio, mantiene ridotta la terra del veicolo, consentendo una portata a residuo di circa una tonnellata. Le dimensioni del cassone sono 3,6 metri per 2,1, con paracabina integrata e bussole fermacarico posizionate all'interno del pavimento di carico. Il meccanismo di sollevamento è elettroidraulico, così da poter essere gestito anche a motore spento per lavori in centri abitati. Il movimento è garantito su tutti i tre lati del veicolo. Il veicolo è in pronta consegna, come altre nostre soluzioni per la vostra mobilità. Venite a scoprirle presto ai sedi Eurocar Friuli Venezia Giulia. Venite a scoprirle presto ai sedi Eurocar Friuli Venezia Giulia. Grazie.